Benvenuti amici, io sono Salopimpos e oggi siamo su PUBG Mobile a vedere questa nuova modalità dedicata a Resident Evil 2 Allora, è veramente uno spettacolo perché c'è tutta la mappa invasa da zombie ragazzi Bellissima, veramente bellissima Allora, io sempre mezzo nudo come un verme La mappa l'ho selezionata, sì, ok Quindi startiamo subito, andiamo a vedere di massacrare qualche zombie Tra l'altro c'è pure Mr. X Ancora non l'ho visto, però so che c'è ragazzi Tizi, che facciamo? Non mi ammazzate perché voglio vedere Mr. X, ah? Quindi non fate i furbetti Dobbiamo cercare di ammazzare Mr. X Non ci ammazziamo fra di noi, facciamo squadra tutti Ok, forza, due, uno Allora, allora, dobbiamo, per vedere la stazione di polizia dobbiamo andare Dobbiamo andare qua Qua c'è la stazione di polizia Quindi adesso ci fiondiamo e ci andiamo subito Allora, un altro pochino Un altro pochino Un altro pochino Un altro pochino, direi che possiamo jumpare Forza Jumpiamo, jumpiamo Allora, andiamo da questa parte Forza Forza ragazzi Perché sta modalità mi piace un casino Allora, zombetti dove siete? Da questa parte Zombetti Vi ammazzo tutti Ovviamente non abbiamo armi Quindi la prima cosa da fare è recuperarci le armi Altrimenti non potremo entrare alla stazione di polizia Visto che è invasa da zombie Invasa da zombie Guardatela lì Che figa Vai tizio Fiondati alla stazione Anzi, prima di entrare alla stazione dobbiamo prenderci un po' di armi Ma sono tutti atterrati lì Ma senza armi come si fa? Guardate RPD Fighissima Ma senza armi però come facciamo? Ad ammazzare zombie Quindi fiondiamoci subito in qualche casupola Cerchiamo qualche buon mitra Perché chi è? Perché qui le munizioni non bastano mai Le munizioni non bastano mai Rimango sempre senza munizioni Allora, entriamo Dalla finestra non si entra Da qua si entra? Tizio entra, tizio Entra da qualche parte Entriamo dalla porta Allora Datemi un mitra Che qua gli zombie sono troppo aggressivi Niente mitra Non c'è niente qua Già sparano E io lo so senza niente Com'è che già sparano? Che io ancora non ho trovato niente Ok, un bel coso ho trovato Chi è? Niente, un telescopio Dove sono i mitra? C'è niente qua? Niente Sì, sì Restringere l'aria Perché dobbiamo entrare alla stazione di polizia Quindi non mi fracassate le zampine Perché non mi interessa niente Voglio entrare alla stazione di polizia Che mi dà niente Perché i mitra non ce li mettete? Tizio Eh no Non mi ammazzate che non ho niente Eh che rottura però Eh non ho niente ancora io Eh non ho niente Che devo fare? Mi ammazzo O mi ammazzate voi? Ve la fate con i bimbi Vero? Ve la fate con i bimbi Ancora non ho niente Non ho trovato niente io Facce di capra Maledetti Che siete? Siete maledetti Allora E riproviamoci Stavolta siamo ben lontani Comunque ci passiamo proprio in mezzo Dobbiamo andare qua Ok Niente Aspettiamo l'aereo Che si avvicina Ok Lanciamoci Via Allora Dov'è che posso recuperarmi un mitra? Dov'è che potrei eventualmente recuperarmi un mitra? Vediamo Perché alla stazione io non posso entrare senza niente È pieno di zombie lì dentro Allora Andiamo subito a vedere in queste casupole qua Vediamo se ci hanno messo qualcosa Io dovevo andare da quella parte Vediamo se qui C'è qualcosa Speriamo Altrimenti stiamo qua A già il video solo per recuperare armi E datemi qualcosa Perché non mi date le armi? Capisco che Le protezioni sono pur importanti Ma vorrei le armi Se non vi dispiace Forse in queste case non ci hanno messo niente Sarebbe stato troppo facile forse Recuperare le armi vicino alla stazione di polizia Quanto meno una pistola È meglio di niente Meglio di niente Oh saliamo 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 Vediamo se c'è qualcosa sopra Chi è? Che mi fatti? Tra bocchetti Ciao tizio Io con la pistolina però Tyrant is coming Wow Mamma mia Come faccio? I muori tizio Muori Ok La pistolina è potente C'è il leaker No vabbè No leaker Non ammazzare Leaker anche qui Anche qui È il leaker ragazzi Abbiamo pure Non mi ammazzare Leaker Non mi ammazzare Gli zombie Muori Ok Mamma mia che fa schifo sto fucile però Ma la stazione me la sono persa io L'aria si sta restringendo Ma io volevo vedere la stazione Ciao zombie Guarda che sono veloce Mamma mia sto fucile fa schifissimo Ma sto fucile Quanto è odioso Muori Ti azzoppo pure qui Ti azzoppo Oltre su Resident Evil 2 Muori Ma sto fucile Ma quanto schifo fa Ma preferivo la pistola Muori Muori Ancora? Ancora? Oh che facciamo? Ma è infinito Ho preso lo zombie immortale Aia No no tranquillo Muori Eh sta arrivando la nebbia qua E ho capito Ma se io voglio esplorare Qui voglio ammazzare zombie Ho preso pure la nebbia Ma c'è la stazione qua Che fine ha fatto la stazione? Mi son perso la stazione Allora Dai mi fate esplorare Perché non cambiate pure le regole? Perché non mettono il fatto di Chi uscite più zombie vince No? Che dobbiamo ammazzarci sempre a vicende Senso ha Così non ci gustiamo La nuova modalità Secondo me Niente Dobbiamo per forza Fare quello che dice lui La stazione me la son persa Era qui Non c'è più Dai usciamo da sta cosa Per cortesia Che già mi son stufato Eccomi Allora Sono uscito Sono uscito Dove andiamo? C'è la stazione qua Non c'è niente Allora 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 Alla stazione non ci possiamo andare più Perché c'è l'onda qui Che rottura di scatole Ma gli zombie che fin hanno fatto? Zombetti Fatevi vedere Eccoli Gli occhi amati Ciao Ciao Faccia di zombo Zombo Pure gli occhi rossi Questi anni Muori zombo Ma sto fucile Quanto è inutile? Muori Sta arrivando un altro zombo Aspetta Ma quanto è inutile sto fucile? Mettiamo la pistola Ho capito Muori Oh Con la pistola Effettivamente La pistola è più potente Il fucile Come è possibile? Muori 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 Abbiamo finito le munizioni Mi è rimasto il fucile Mi è rimasto il fucile Per cortesia mi fate Mi fate Andare indietro Ma guarda quanto sono Mi tirano pure le cose Pure gli zombie acidi ci sono Muori Ok Non mi tirare le cose Però faccia di zombo Ok munizioni Carichiamo la pistola Non mi aggredire da dietro Chi è quello? Pure Pro zombie ciccione c'è Aglie non mi colpire Dai carica 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 Aiuto Mi sento aggredito da zombie Aiuto Ammazza 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 Ok Non abbiamo ammazzato Ammazza pure questo Ammazza pure Abbiamo finito le munizioni Colpo di fucile Via di colpo di fucile Aiuto Mi sento aggredito da tutti Mi sento aggredito da tutti Aia pure da dietro No da dietro non mi venite Perché ho paura da dietro Credo di stare per morire Dobbiamo curarci Ma come faccio con Con loro che mi inseguono Come mi curo Con loro che mi aggrediscono Eh tizio Non è che andresti a rompere le scatoline A qualche altro Tizio in mappa Non è che esisto solo io Nella vita Muori Aspetta Muori Muori Ragazzi Che posso fare Contro tutti questi Ok 11 kill siamo Muori Muori ciccione Muori Aia Muori ciccione Ok è morto Ah questi esplodono proprio Non ti fregarei nelle armi Amico Lasciami qualcosa Ok Che cosa ho preso Lo scar Ora si Ora si che facciamo danni Ora si che facciamo danni Medici Oh perfetto Questa casupola mi è piaciuta Adesso si che facciamo danni Datemi un sacco di munizioni però Andiamo di qua Scendiamo 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 Ciao Ciao E' uno zombo Facci il ca Ora si che con lo scarro Non ce n'è più per nessuno Muori Muori zombo Muori Il pisellino ti sparo Così impari Ok scappiamo via Prima che qua mi chiudono Lì dentro Vi ho bisogno di munizioni qua Ciao Ciao tizia Mamma mia che sono veloci però Tizia Aspetta che ti devo ammazzare Muori Ma chiuso ma chiuso ma chiuso E dai tizia Ti devo ammazzare Muori Muori Ok Ora si Dammi quello che avevi Chi è? Oh fatemi vedere la mappa però Non siate così rompiscatola Muori Testa di nevoce Come si fiondano però E che? Pure gli zombie illuminati Mamma mia che cosa c'è qui Mi hanno ferito Mi curo Ma come faccio a curarmi Con loro che mi rompo le scatole? Veloci qualcuno mi salvi Non mi posso curare ovviamente No? Ovviamente no Perché sono assaltato agli zombie Ragazzi Mi stanno ammazzando Mi stanno mangiucchiando Non posso scappare Veloce tizio Come faccio a salvarmi A sta situazione qua io? Con tutto ciò che avevo Lo scarro Sono arrivato a diciottesimo Che schifo Zombie maledetti Quanto meno ho preso A Vieni qua Ti ammazzo a pugni Ti ammazzo Vieni qua Ti schiaccio come un verme Vieni Vieni qua Ti schiaccio a pugni Ti faccio vedere io Se mi devi Picchiare Mi devi sparare Mentre cerco le armi Dove stai andando? Dove stai andando? L'ho ucciso a pugni Fighissimo Che mi dai? Oh Dammi tutte le tue armi Va Così impari A venirmi a cercare Mentre sto andando Alla stazione di polizia Eh C'è qualcosa di brutto qui Mi indica che c'è un boss Ovvero Chi sarebbe il boss? Il Tyrant? Ho paura Dov'è? Eh ciao È il Tyrant ragazzi Mister X Vieni qua Mister X Che ti ammazzo Ma Muore Via Non venite da me Ci sono 3000 persone Ci sono Non venite da me Non venite da me Perché ci sono 3000 persone Hai capito? Mister X Non mi picchiere Non mi picchiere Non mi picchiere Sì ma non morirà mai Posso sprecare Tutte Tutte le munizioni Mi aiutate qualcuno Per favore Che non è che posso fare Qualcosa Di costermine Fucile 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 che Mamma mia Ho paurissima Prenditi questo Ok Prendi Mi ha colpito però Prenditi questo Prenditi Mi aiutate qualcuno Per favore Non scappare Capite Che fa Scusami Non te lo dico Muori Muori Non morirà mai Ho finito le munizioni Che si fa? Mi date qualcuno Munizioni Per favore Aiutacelo dietro Aiutacelo dietro Aiutacelo dietro Che faccio? Che faccio? Aiutacelo dietro C'è lo dietro Eh lo porto da voi Così Ragazzi Mi sento Inseguito dal tyrant Si è arreso Normale No ancora no Ancora no Via Ma che facciamo Sono senza munizioni Amici mi aiutate Amici vengo da voi Lo sto attirando da voi Sono cacchi vostri Lo scappate Aiutatemi Vedete qua si è arreso Quello però Si è arreso E io ho bisogno di armi Ok un bello scar Me lo prendo Vuoto Uno scar Senza niente Wow Senza munizioni I miei amici Stanno combattendo Contro Mr. X Amici Ho bisogno di munizioni Dov'è che le prendo Ste munizioni? Datemi le munizioni Ok qua ho un Thompson E prendiamo il Thompson Ora si Andiamo da Mr. X Mr. X sei mio Non lo so se ti ucciderò Ma ci provo Ci provo Carichiamo anche questo Ciao Mr. X C'è la fecce di capra Crema Ho un Thompson in mano E non ho paura di usartelo contro Lo sto ammazzando tutto io Su Mr. X Che è? Che mi ti Che mi hai tirato Facce di capra Crema Crema Qualcuno lo sta ammazzando pure Fortunatamente Aspetta che quello tira cose Pezzo di maleducato Qualcuno mi salvi Qualcuno mi salvi Qualcuno mi salvi Vi prego Salvatemi Ok l'hanno ammazzato comunque Salvatemi amici Amici salvami tizio Io mi prendo le cose Voi l'avete ammazzato Io mi prendo Non mi investite però Aspetta difendemi amico Che mi sto curando Difendimi ti prego Difendimi Ok mi sono curato Aspetta ne devo usare un'altra però Ok medikit pure abbiamo Usiamo 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 il medikit Difendetemi amici Mentre che mi curo Difendetemi Ok Perfetto Vi ha ammazzato Mr. X Grande squadra Aspetta perché là ci sono altre cose Non vi fregate tutto Che mi avete lasciato qua Niente Siete Siete proprio Non lo so come siete Ma dobbiamo scappare Via 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 Vi difendo gli amici Ammazziamo zombie Aspetta Dobbiamo ammazzare gli zombie Morite zombie Morite One kill Io ho ammazzato Mr. X Cioè Ho collaborato Ammazzare Mr. X Mori Scappiamo 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 Perché Cammino Amico Mi daresti un passaggio Perché qua Mi sento troppo Aiuto 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 Spara Spara Ma quanti ce ne sono 8 kill Mi date un passaggio Oh tizio Oh tizio datemi un passaggio Oh troppi 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 Aiuto Mi sento inseguito Mi sento inseguito Aiuto 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 Abbiamo finito le munizioni Che si fa Che Che faccio Senza munizioni Chi è che spara Amici Aiutatemi Vieni qua Vieni qua Aiutami un passaggio Tizio Eh c'è la macchina infuocata Sta prendendo fuoco Dai siamo in 20 Aspetta Che Che quello Manco mi calco Aiuto Aiuto Amici Aiutatemi Vedete qua Vedete qua Non mi mordete Cerco di curarmi Non mi fa curare Ovviamente Perché sto correndo No Eh Che avete fatto qua Dove siete Aiutatemi Amici Dove che dobbiamo andare C'è un altro Mr. X Addirittura Io sono senza energia Ma intanto Non mi posso curare Che qua sono In seguito E cacchio La miseria Fatemi Aiuto Vediamo se riesco a curarmi Non mi ammazzate che mi sto curando Che è Perché non si è curato Aspetta che devo usare il coso Tizio Perché non si cura Usa 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 Lo so che mi stanno ammazzando Giustamente Non mi fa curarsi Non posso fare altro Ragazzi Mi arrendo Mangiami zombie Fai quello che vuoi Della mia carne Sedicesimo Ok ragazzi Quindi modalità Veramente Fighissima Provatela Fatemi sapere nei commenti Se vi piace Se volete Un altro episodio Aspetta quindi Lasciate un bel like Vi ricordo che potete Segui in banca Sulla pagina Facebook Tutti i soldi Trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi torniamo su Bendy and Ink Machine Allora L'ultima volta ci siamo salutati Esattamente qui Ciao Boris Mi sei mancato tantissimo Oggi non ti picchio forse Se fai il bravo Oggi non ti picchio Però una bottarella Te la do sempre